Maschere, carri e sfilate. Il Molise si prepara a vivere l'ultima domenica di carnevale in un'atmosfera di festa tra stelle filanti e coriandoli. Un corteo in costume è in programma a Ripa di Mosani per le vie del paese domenica mattina a partire dalle 11. La crisi economica e lo stato di abbandono del borgo storico, questi temi al centro del carnevale ripese. Non mancheranno però gli sfottò a personaggi di spicco della comunità e poi la rappresentazione della storia d'amore tra Paul, un imprenditore australiano di origini ripesi a cui viene chiesto aiuto per risollevare le sorti economiche del paese e la timida Assuntina. A Spinete, per il secondo anno, il carnevale rievoca quelli degli anni 90 e allora la sfilata dei carri anche nelle contrade e nelle borgate. Partenza alle 9.30 dalla borgata Sebbioni, dopo una ricca colazione, poi l'aperitivo in borgata Iacovantuono, un primo piatto in borgata Piana e un secondo in borgata San Giovanni, fino ad arrivare in piazza Largo Fontana alle 17 per concludere i festeggiamenti. Dodicesima edizione del carnevale a Trivento, i carri inizieranno a sfilare dalle 14.30 fino ad arrivare in piazza Calvario, poi tutti in maschera al centro polifunzionale per una degustazione di piatti tipici locali in compagnia di Gigione. A Cerce Maggiore, per la non edizione, apriranno tutte le cantine dove si potranno assaggiare piatti tradizionali. La sfilata in maschera, a partire dalle 16, sarà accompagnata da una banda di gamba tesa. Infine Larino, alla sua 41esima edizione, qui si festeggerà già da sabato pomeriggio dalle 15.30, con la presentazione dei carri e con vari concorsi. La maschera singola più bella, quella di gruppo, un concorso fotografico e uno di disegno. Domenica pomeriggio poi la sfilata, che sarà preceduta da un'esibizione del diavolo di Tufara. Tante allora le manifestazioni per questo carnevale, iniziative con un unico comune denominatore, valorizzare il territorio.